Vi piacciono gli sport estremi, adorate lo sci e andate matti per le corse in bicicletta. Ora non vi resta che riprendere le vostre imprese. Come? Ve lo spiego tra poco qui su Tech Princess. Questo è Sony HDR-AS50 ed è un action cam. Si tratta di un dispositivo costruito per registrare video durante lo svolgimento di sport e attività ed è pensata per essere resistente e versatile. Grazie alle sue dimensioni compatte potete portarla ovunque, agganciarla al casco, al manubrio della bici o usarla con un selfie stick. La custodia in dotazione vi permette di utilizzarla anche durante le immersioni fino a 60 metri, così avrete splendide riprese del fondale marino. Questa custodia però non serve solo a proteggerla dall'acqua. Grazie ad essa infatti Sony HDR-AS50 può resistere al freddo e alla neve, a polvere e sabbia e alle cadute. L'action cam di Sony però non si distingue solo per la sua capacità di resistere in situazioni estreme. L'obiettivo Zeiss Tessar permette infatti di girare splendide riprese in Full HD, mentre il sensore CMOS Exmor vi aiuta ad ottenere ottime immagini anche quando c'è poca luce. Non manca poi la tecnologia Steady Shot che riduce le piccole vibrazioni causate ad esempio dalla bici, dalla moto o dal vostro naturale movimento. Il risultato sarà fluido e perfettamente godibile, senza fastidiosi tremori. Sony HDR-AS50 utilizza inoltre due angoli di visione, uno largo e uno stretto. In questo modo potete decidere se avere un campo visivo più ampio oppure più stretto e focalizzato ad esempio su di voi. Per modificarlo avete due possibilità. La prima è tramite l'interfaccia utente. Questa action cam infatti è dotata di un piccolo display e di quattro pulsanti. Il menu è semplicissimo e gestire la videocamera da qui sarà davvero facile. In alternativa potete cambiare le impostazioni collegando l'action cam allo smartphone ed utilizzando l'applicazione Play Memories Mobile. L'app vi permette inoltre di vedere in anteprima ciò che state inquadrando. Grazie ad essa quindi potete decidere come posizionare l'action cam prima di lanciarvi in una nuova e folle avventura. Direi che per oggi è tutto. Io vado a maltrattare questa Sony HDR-S50. Voi nel frattempo correte a visitare il nostro sito www.techprincess.it per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità tecnologiche. Ciao!